Il primo ministro slovacco Robert Fizzo esce vincitore dimezzato dalle elezioni. Gli exit poll hanno attribuito ai socialdemocratici il 29,3% dei voti che nello scrutinio del primo 10,2% dei distretti sale al 30,9%, lontano comunque dalla maggioranza assoluta. Fizzo ha definito la situazione complicata visto che il Parlamento sarà composto da numerosi partiti, tra questi anche l'estrema destra di LS Nase Slovensko che fa il suo esordio nell'Assemblea Nazionale. E' una grande vergogna per la Slovacchia, una catastrofe, proprio quando ci accingiamo ad assumere la guida di turno dell'Unione Europea i fascisti entrano in Parlamento. Con un'affluenza che si attesta tra il 60 e il 70% saranno una decina in tutto i partiti che guadagneranno qualcuno dei 150 seggi disponibili. Slobo da solidarietà risulta seconda con il 13,3%, terzi i conservatori di Olano Nova con l'11,2%. Non si può escludere un tentativo di un'ampia coalizione di destra antifisso. Di certo non si ammorbidiranno le posizioni antimigranti, che anche lo stesso Premier ha sempre manifestato.